Sono Giovanni Piomboni e sono il responsabile della divisione piscine della ditta Acqua e mi occupo oltre che dello sviluppo della divisione, in particolare del sviluppo dei mercati esteri dove siamo presenti con diverse filiali e distributori. In occasione di questa mostra mi preme soprattutto evidenziare quelle che sono le novità in particolare la nuova struttura che siamo andati a realizzare una struttura in pannelli completamente innovativa nella tecnica costruttiva e nelle prestazioni sviluppata soprattutto in ottica della facilità di assemblaggio associata a quelle che sono dei vantaggi consistenti e considerevoli nel mondo della durata e della qualità del prodotto. Quindi è una struttura che va incontro alle esigenze dell'installatore e va incontro a quella che è una qualità che il cliente consumatore ci chiede sempre maggiormente. A questa struttura si affianca anche un nuovo prodotto per la sterilizzazione dell'acqua è un prodotto completamente innovativo made in Italy perché tutti i prodotti esposti sono di nostra produzione rispetto alla concorrenza gode dei plus molto importanti perché tra le altre cose è prevista la versione anche con il controllo del pH e del cloro e quindi si presta a installazioni anche su impianti semipubblici.